Gira che te gira la testa, gira che te gira la testa Come se dice, anno nuovo, vita nova, quante volte l'ho dita sta roba Allora, ascolta, quest'anno chiamo un sacco di novità, un sacco di novità Allora, Gold e Ponta, come mi piace sto nome, quest'anno lo ascolterete da Radio Bella e Monella Radio Bella e Monella, sui 93 cento era, sui 93 cento Desimato, ma le novità non finiscono qua, era Digo me Sì, sì, dighile tutte le altre novità, dai Ah, digo me, posso? Dai Allora, i Butei, dai 6 agosti farà un nuovo programma, sempre dal terzo livello della Grande Mela E il programma si chiamerà Chamba Wamba Tutti i giorni, dalle 2 alle 4 del pomeriggio, con Beppe Bifido e Tony Franchi Mi raccomando, ricordatevi, dal terzo livello della Grande Mela, era terzo, no primo Mi raccomando, ricordatevi, se no, se no, betai io vi Ai Ubi Novantatreecento, ciao Novantatreecento, ciao Novantatreecento, ciao Grazie a tutti